benvenuti sul mio canale tutto dal web nella notte al grande fratello pare che la passione abbia coinvolto Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi i due infatti un po' spaventati dal rischio che lei possa uscire dal programma poiché è in nomination quindi potrebbe uscire oggi si sono lasciati andare dei momenti intimi sotto le coperte che la regia ha deciso però di non trasmettere se non per qualche breve secondo come ben sappiamo quest'anno la disposizione delle stanze nel gf particolarmente diverso sia tutti dormono tutti insieme quindi c'è chi ha lasciato loro la loro intimità quindi non disturbandosi ad esempio grecia arnold e fiordaniso e chi invece un bel gruppetto li ha presi in giro in modo particolare dopo circa due ore che erano in grande intimità non si sa cosa sia ben successo la Luzzi si è alzata dal letto e si è diretta in bagno per sciacquarsi la bocca lì erano presenti anche Letizia e Anita e immediatamente le due si sono messe a spettagolare e andando poi a riportare il tutto a Samira prendendo in giro la Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Anita che si dice plurilaureata ha un atteggiamento che non è assolutamente piaciuto ai fan del programma che l'hanno ritenuto poco educato e anche rispettoso e voi cosa ne pensate scrivetemelo se vi va giù nei commenti lasciami un like e iscriviti al mio canale ciao e alla prossima ciao ciao ciao